Luciano Piri, giudici possono sedersi, giudice Marco Colini è desiderato in pista, Andrea De Melas c'è, marca giudice Marco Colini, arrivato? Ok, stiamo pronti? Coppia numero 46, 3, 2, 1, show! Aprovar una parella Aprovar una parella I. La Santa Maria Ogliela, si quiere cantar, oye arrepiando con su dolce po. Oglielo, replicar, oglielo, cos'uera ya, que deitano rumbero para gozar. Ogliela, si quiere cantar, oye arrepiando con su dolce po. Ogliela, si quiere cantar, oye arrepiando con su dolce po. Ogliela, si quiere cantar, oye arrepiando con su dolce po.